Il 2024 sarà l'anno di un nuovo parcheggio nell'area adiacente a San Silvestro. Il Comune prova a mettere riparo ad una situazione complicata in centro storico dove l'assenza di posti auto si fa sentire. A questo si aggiunge la gara d'appalto per la rimessa in funzione del tapirulano del megaparcheggio a Colle Maggio, che dovrebbe incentivare l'uso di quella struttura mai decollata. In questo caso il soggetto attuatore è l'USDRA. La gara in precedenza è andata deserta, ma ci si riprova al nuovo anno, sperando di trovare ditte non impegnate in altri appalti che riescano a partecipare. 500.000 euro è la cifra reperita per il nuovo spazio a San Silvestro che si sta già progettando, 60 posti a Torraso che sorgeranno nell'area di risulta del Comune. Il parcheggio di San Silvestro non sarà l'unico, oltre al posteggio di Portaleoni che pian piano sta ottenendo numeri più importanti rispetto al deserto iniziale, c'è sempre il progetto per la parte interrata. Inoltre si ricaveranno altri 20 posti nello spazio dell'intersezione tra via Roma e via le Duca degli Abruzzi. Sarà riqualificato lo spazio vicino al Parco Giochi del Castello con una nuova pavimentazione. Resta in piedi ovviamente il parcheggio multipiano da 200 posti in viale della Croce Rossa, che avrà un collegamento meccanizzato con la zona di San Basilio, sede dell'Università. Il 2023 è stato senza dubbio un anno importante per la ricostruzione pubblica nel centro storico dell'Aquila, tante piazze e cantieri avviati, questo ha causato dei disagi sui parcheggi. Però siamo al lavoro ormai da diverso tempo per mettere un punto a questa emergenza. L'assessore Giuliani ha ricordato insieme al Sindaco Biondi la centralità del megaparcheggio, il Terminal di Colle Maggio, che una volta riqualificato sarà un parcheggio moderno e gratuito a disposizione di tutti quanti i cittadini con collegamenti che già oggi ci sono gratuiti tramite navette per il centro storico e l'ascensore che è in fase di realizzazione e i tapirulan, le sette coppie di tapirulan che portano direttamente nel cuore di Piazza Duomo. Nel mio piccolo, nell'attività dell'assessorato all'urbanistica abbiamo messo in cantiere la progettazione del parcheggio di Viale della Croce Rossa. Erano anni che tutti dicevano di poterlo fare e noi per la prima volta lo abbiamo messo in progettazione.